Sono stata sempre una grande lettrice e quindi in questo momento della mia vita mi sono approcciata ai libri della dottoressa Andreana Bazzanetti che ora è diventata un'amica, una sorella. Io ho iniziato col bene più grande, è stato un libro forte e dopodiché mi è venuta l'idea di contattarla perché lei è sempre molto disponibile, l'ho contattata, sono stata a Parma, l'ho conosciuta personalmente e subito sono andata a conoscenza che il libro è solo la prima parte di un percorso che è appunto il percorso della comunità Figli in Cielo. E quindi subito Andreana mi ha investito di una grande responsabilità, mi ha detto allora tu potrai organizzare qualcosa in Sicilia visto che Figli in Cielo non è conosciuta, mentre ha un grande riconoscimento perché è stata anche riconosciuta dalla CEI. E allora dopo due anni da questa mia grande tragedia che porto nel cuore ma sempre col sorriso sulle labbra ho iniziato a contattare le famiglie di Brollo perché ci siamo, purtroppo ci siamo, conosco anche, ora sono diventati amici da altri paesi e quindi abbiamo invitato qui la dottoressa Bazzanetti con l'ausilio appunto di iniziare questo percorso insieme. È stato il vescovo molto disponibile in questi confronti, nei nostri confronti e mi ha presentato il sacerdote padre Smiriglio e conoscevo già anche altri sacerdoti e così abbiamo organizzato questa cerimonia che speriamo che sia l'inizio di un percorso che ci possa dare un po' di sollievo. Ecco. Chi stasera non è qui presente ma poi conoscerà questa realtà che sta nascendo, come potrà fare per mettersi in contatto con voi? Allora io sono a disposizione, lascerò il mio numero di telefono, la mia mail e ogni terza domenica del mese ci riuniremo in una sede che sarà la chiesa di Iaca perché il vescovo appunto data la grandezza della diocesi ci ha decentrati un pochino perché raggiungere patti non è facile, soprattutto la cattedrale qua sopra è molto in alto, le strade sono strette e allora ci spostiamo tutti verso Iaca che raccoglie un pochino anche il bacino d'utenza da quella parte. Quindi avremo padre Antonio che ci guiderà, noi faremo degli incontri prima tra di noi le famiglie e poi ci sarà il prete che dirà una messa insomma. La terza domenica del mese ci riuniremo tutti sempre. Speriamo che lo possiamo fare sempre. Figli in cielo, una comunità nata ben 25 anni fa, adesso approvata anche dalla CEI, nata con quale finalità e perché? Innanzitutto ci tengo a precisare che non è nata per una mia iniziativa, anch'io dopo che ho perso mia figlia volevo fare qualcosa per i giovani e invece il Signore aveva un altro progetto perciò per prima sono stata io sorpresa di questo nuovo cammino che il Signore mi indicava e che era al momento tutto buio, tutto da percorrere ma che comunque ho cercato attraverso un ascolto di fare i passi che giorno dopo giorno mi venivano un pochettino indicati. Ed eccoci qui dopo tanti anni, riconosciuta dalla CEI appunto e questo ci rende molto orgogliosi di questa approvazione perché è il primo e l'unico percorso approvato dalla Chiesa nel mondo, pensi un po'. In genere ci sono delle iniziative spontanee perché le famiglie sentono la necessità di condividere diciamo proprio dolore, di sapere che nel mondo c'è un'altra persona che ha vissuto lo stesso dolore questo è già consolazione, consolazione vuol dire proprio stare con chi è solo però poi ecco il percorso è insomma più impegnativo perché non si tratta solo di una condivisione ma si tratta di approfondire quello che è una chiamata del Signore dove la morte di un figlio non è una punizione ma è una elezione dove una disgrazia miracolosamente in lui diventa grazia grazie ad un percorso di vita nuova qualitativamente migliore di quello che era prima ma anche se ha un costo altissimo perché non c'è dolore più grande che possa vivere un essere umano che la morte del proprio figlio perciò nessuno vuole sminuire diciamo questo evento che non è stato sminuito nemmeno da Gesù ecco e soprattutto da Maria che ha visto il proprio figlio morire in croce in una morte ignominiosa addirittura però lei non si è piegata su di sé ma Rita ai piedi della croce sta insegnando a tutti noi di fare lo stesso percorso e di avere soprattutto fiducia in Dio come si dice come scritto nella scrittura sperare contro ogni speranza e noi siamo qui grazie a lei ecco e grazie anche ai nostri figli che sentiamo che ci accompagnano e soprattutto grazie al Signore che ha tracciato per primo questa via della passione morte e resurrezione e che noi miseramente debolmente cerchiamo ecco di percorrere gli stessi passi perché nessuno viva solo un dolore così grande per questo che anche qui in questo angolo di Sicilia noi siamo in Sicilia da tantissimi anni direi più di vent'anni nelle varie comunità però mancava questo angolo e il Signore ha provveduto grazie a Marinella Speziale che per prima appunto si è messa in contatto è venuta a Parma e eccoci qua Ecco, concretamente nella vita di tutti i giorni come state accanto a una famiglia che ha subito un così grande dolore? Innanzitutto noi ci siamo noi abbiamo vissuto e questo ci dà un'opportunità che nessun'altra persona può dare perché una cosa è parlare di un lutto una cosa è viverlo il lutto quando una persona vive un lutto basta una stretta di mano basta un buongiorno al telefono basta un buonanotte alla fine della giornata basta un abbraccio e già c'è una consolazione come dicevo prima che nessun altro neanche come dire la persona più vicina che ci ama di più ma che non ha vissuto ci può dare e noi poi in base alle esigenze al di là degli incontri mensili che noi facciamo proprio per questo accompagnamento abbiamo questa nostra presenza anche nelle parrocchie c'è un incontro settimanale di preghiera attraverso il rosario con le nostre intenzioni per essere vicino alle famiglie anche con la preghiera e da lì poi nasce il bisogno e noi cerchiamo di essere come l'altro ci desidera in quel momento se in silenzio se portando la nostra testimonianza se semplicemente per una stretta di mano un abbraccio secondo l'altro che cosa ci richiede in quel momento a volte anche di far parte del dolore che tutta la famiglia vive perché poi ognuno si chiude nel proprio dolore e nella famiglia purtroppo succede che subentrano anche altre complicazioni in relazione di coppia in comprensione genitori figli che non riescono più ad essere genitori come prima perché anche loro hanno bisogno in quel momento di aiuto perciò chi ha già vissuto cerca di dare quello che ha nel cuore ecco è importante vivere cuore a cuore con la famiglia poi il resto lo fa il Signore non siamo soli ecco questa è una grande consolazione per tutti sentiamo proprio questa presenza costante dei nostri cari di Maria e soprattutto del Signore che ha tracciato questo itinerario ripeto doloroso ma molto molto prezioso e non dobbiamo assolutamente sprecare un dolore così grande ciao a tutti i nostri cari